Ciclo 7, risveglio. Ciclo 7, sono state operate selezioni. Vi preghiamo durante il primo nutrimento di controllare i risultati della selezione e di cancellare dalle pareti del vino i loro nomi. Il ciclo proseguirà come al solito. Primo nutrimento, prepararsi al primo nutrimento. Vi ho detto di stare zitta, per dire queste cose. Cosa faccio che avevo fatto io? Risponditi, non chiamassi di ricardo, confiamaci che non rispondi. Cosa vuoi? È stata colta mia. È colta mia? Non mi sapevo io la cazza di domenica, è stata colta mia. C'erate voi? Mi selezioneranno. Un ciclo. Un ciclo e saremo di nuovo insieme. È assolutamente necessario prepararsi al primo nutrimento. È assolutamente necessario prepararsi al primo nutrimento. Un ciclo. Un ciclo. Cosa va? Vita al cervello. Vera? No. Buona? Vita? Qualcuno deve pure il quadro. Lo faccio io. Grazie. Bene. Buona parte. Bene. Aria? Si, sottotitolo. Puoi più a ultima? Le loro specie selezioni. Lo so. Non mi spiutare. Ma io in caso, potessi spettare se lo volevo. Scusate, non è vero. Sono mortificato, io non volevo. Vetture volontarie, però. Vetture volontarie. Non so come, ma mi è andato in testa. Voi lo sapete perché? Nessuno? Comunque, permesso che non lo farò più, eh. Ti giuro, non lo farò più. Mi spiace. Non sento niente. Non posso. Andro, ti devo parlare. In privato. C'è uno segreto che mi dice. Chiedi scusa. Scusa. Chiedi scusa. Scusa, ma non lo capisco. Ti è passata una spinta di cercare il problema, eh. Se alcuni non possono essere cominciati a fare gli stronti, non farà più successo niente di tutto ciò. Ma non l'ha fatto per me. Tu non sei il mio amico. Esico le mie scuse. Io non lo capisco perché tu mi faccio. Prepararsi agli esercizi di respirazione. Prepararsi agli esercizi di respirazione. C'è questo ragazzo Ancora? Scusa? Niente, perché non ti ha visto? Come mai facciare questo ragazzo? Questa ragazza ti incappa tutti gli essenziali, ma lo sapevano. Se vuoi non te lo dico. No, 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 parlo. Insomma, c'è questo ragazzo... E non ti ho detto che si è intanto? Lo conosce. A me piaceva un altro, ma poi ho scuduto. E il problema... Quale è il problema? Il problema è che forse è l'alto percibito, e non vorrei io. Ti tranquillo, le ragazze dicono che ne è nera di lavorare, e ti assicuro che quell'altro ha più paura di un serenso di qualche nello. Non so, l'altro amico, il fatto che mi pare, vuole stare vicino, ma stanno qui, ma non sono segnata. Ho visto un'alto percibito, e ho pensato in avanti, e chi è? Che? Che volevo stare con voi, ma stanno dicendo solo. Fino agli anni non prendiamo queste sensazioni così... C'è un'alto percibito, ma è buona, è sovredicitata, e mia e sua, dito, dove non c'è niente da dire. Non vuole fare un'alto percibito, ma stanno qui, è sicuro che... Sto parlando di un'alto per te che stai lavorando in teo. Non so. Ehi, anno, per quanto mi riguarda hai ragione. E' la ricca? Questo. Se l'hai cercato. Forse avrei dovuto chiedere scusa. Oh, ma gli eroi non chiedono scusa. Ma io non so che no. No. Chi ha difeso, piccola? Che se io posso fare i tiranni? E non io non gli ero, sì. Davvero? Beh, prima che tu ti svegliassi, hanno scelto a mettere su tutte le propiste. Non ho fatto dire che di speciale. Ma hai fatto qualcosa? Beh, è triste che si abbassionava che hai dato il dispermio. Scusi. Ma come? Non lo sai? Ma guarda, non sei, ma ho fatto il ruolo per l'altra. Ma noi sappiamo che non è così. E allora, io sconvento sicuramente da bere che si comportava l'amico. Non è come perci. No, forse no. Sicuramente no. Beh, se lo dici tu. Prepararsi alla pratica dell'oceano. Prepararsi alla pratica dell'oceano.